soffocavano questo per cosa che c'è che motivo aveva queste torture basta con l'acqua in faccia si legavano a letto si è aperta l'infermeria b prima non era aperta e ho trovato un altro pezzo di diario ora devo capire dove andare sul retro e poi giù verso le cucine il parco sul retro e giù verso le cucine da da qua si esce siamo a far strana che facevano la strada che facevamo per andare dove non ci fosse nel parco su quella panchina a lei ea amara forse la sua amica o la sua amante non ancora ben capito la natura lei che parlava e sorrideva o qualcosa di carino c'è stato a volte rubavamo qualcosa da mangiare e tornavamo solo panchina a mangiare di nascosto ridevamo eh sì era la sua amante c'è mi faccia era innamorata di lei credo mi toccava a volte sì credo di sì senti per la prima volta il suo corpo appoggiarsi al mio a meno che anche lei abusasse di lei ma non penso perché le voleva bene quindi era un brivido che scaldava l'anima gli occhi chiusi si è probabilmente si si amavano via devo fare devo raggiungere le cucine ma lei non c'era lui non la faceva entrare che vuol dire lei deve essere la chiave la chiave dei ricordi dei perché ok cerchiamo amara nelle cucine nella parte inferiore dell'edificio dietro la serra dietro la serra proviamo a cercare qua in giro una zona in costruzione ma io dubito che la costruiscano dove sto andando a finire io sulle impalcature scusate l'odore della primavera e rumori il paese della luce era lontano e noi passavamo le giornate a chiacchierare sedute sulla pietra delle panche carine posso buttarmi da qua no però mi ha dato un achievement fare tutto questo giro grazie ora raggiungiamo le cucine la natura mi aiutava a dimenticare ad uscire dal sistema ho un altro ricordo sto andando la direzione giusta allora qua c'è una cosa da mettere nel diario ma le guarderemo tutte alla fine perché come vi ho spiegato mi dà fastidio che le si trovino in disordine ah siamo arrivati alla serra forse dovevo raggiungere la serra se non ricordo male proviamo a entrare di qua nooo amara era fidanzata quindi forse stava con un altro cioè noi ci siamo forse sentite tradite da lei perché lei non aveva solo noi forse acqua ci sono le cucine o dai dai cerchiamo dappertutto si chiuse la porta lei deve essere qui non c'è dubbio io dubito che lei sia ancora qui dopo tutti questi anni non volevi deluderti ma nel forno non è nel forno strano ma perché cosa cucinavano qua dentro è un po strano che lei sia rimasta nel forno ma chi sono io per giudicare d'altronde continuiamo a cercare non ci arrendiamo si sto cercando stai calma ma dove sarà dobbiamo parlarle le cose andavano bene e non so dove sia andata non mi piace cerchiamola dai velocemente si la sto cercando stai calma di qua dove stiamo andando a finire ci sono dei bagni nelle cucine però qua c'è un ricordo non possiamo rimanere troppo qui dentro ci scopriranno no non ci scopriranno corriamo dobbiamo trovarla in fretta non ti scopriranno questo posto abbandonato da anni ma non ora non ancora spia mara non c'è nei bagni forse nei bagni possiamo trovarla lì spesso l'acqua era fredda allora scappavamo via ma quando era calda allora lei veniva da rené sotto quella luce bianca e crudele posso ancora sentire il brivido che mi dava il suo corpo ok ricreiamo quella magia e lei verrà da noi va bene devo solo trovare le docce e poi ricreeremo tutta la magia che vuoi cosa no cosa devo fare devo aprire la lavatrice per due a girare la manovella io faccio una foto a questa cosa qua se dovesse servirmi almeno ce l'ho segnato e ora è questo forse ok questa questa chiuse girare la manovella c'è la cosa rotonda questa qua poi la leva di questa per ultimo no non si capiva bene cos'era l'ultimo forse qua cos'ho azionato cosa cavolo azionato l'acqua calda forse potevo anche accendere la luce che scema facciamo finta di aver azionato l'acqua calda a questo punto io dovrei raggiungere di nuovo i bagni con le docce ma che siano questi bagni io non riesco a capire forse devo azionare queste manopole a questa lavanderia se giro questo ho fatto partire dell'acqua ora tutto è pronto a andare nei bagni possiamo passare da quel corridoietto nelle cucine la incontreremo nelle docce si corridoietto nelle cucine dove a di qua questo prima ha chiuso perfetto ma dove dove siamo finiti una bici ma io dubito che qua sopra ci siano i bagni c'è sul serio loro se ne vanno a imboscare fino qua no siamo tornati indietro non capisco ora tutto è pronto possiamo andare nei bagni possiamo passare da quel corridoietto nelle cucine la incontreremo nelle docce si è dove cavolo sono le docce forse erano in qua nella zona tranquille eravamo arrivati prima nella zona dei bagni però non mi ricordo più dove fossero forse qua o se l'ho indovinato a bagni tutto è pronto ora spogliamoci e lasciamo i vestiti sull'appendipanni siamo i vestiti qua va bene che bella idea facciamo una bellissima doccia qua sì comunque io sono re ne ho visto le mani con lo smalto adesso apriamo l'acqua e tutto sarà esattamente com'era io non credo come si apre l'acqua ecco qua la leva oddio mi sono spaventata non me l'aspettavo ah va bene ora devo riuscire a trovare amara ma sarà nella stanzina di là di sicuro queste siamo io e lei amara era tutto quello che aveva renei ah le hanno separate eh sì perché era considerato appunto malattia mentale essere lesbica a parte che a loro non era proprio consentito amare no da tranquilla le hanno messe in semi agitate no no poverina l'hanno dato i tranquillanti a meno che sia morta mi sta venendo il dubbio quelle iniezioni erano una tortura eh le immagino per quello che facevo e lei chissà dove era amara mi aveva portato al piano di sopra in quel reparto dove nessuno voleva andare eh non era proprio il massimo sì ora dovremmo andare in quel reparto suppongo ora cerchiamo la stanza di renei nel reparto semi agitate e di qua l'ho trovato reparto semi agitate quando c'era troppa confusione chiudevano tutte le finestre e la porta spengevano le luci ed era il buio con il buio spengevano? ha detto veramente spengevano? qualcun'altra forse cessava di vedere i propri fantasmi e tornava un po' di pace eh deduco che questa sia la stanza di renei perchè mi lascia entrare ho forse una stanza a caso oh è una stanza a caso va bene ma dove stiamo andando? continuano a urlare qua però porca miseria no avevano scritto renei ma non gliel'hanno data c'è scritto non consegnata ed essendo dal lungo tempo ammalata non sono nelle condizioni di poterla venire a visitare cavolo mi farà la compiacenza di farmi sapere se che quando sarà possibile voleva sapere qualcosa della figlia voleva portarla via la saluto distintamente adattiva sottoporre all'attenzione del dottor C per valutare possibile dimissione della paziente o forse mi hanno dimessa cioè hanno dimesso renei sta cosa mi sfugge cioè mi manca parte della lore del gioco io non capisco la stanza è questa cioè boh l'unica cosa che posso fare a sto punto è chiudere la finestra ma mi sembra abbastanza stupido ho fatto tutto e ora? mi chiudo dentro? proviamo provo a chiudermi dentro dovevo far questo ti mettevano la camicia di forza poverina ti facevano la doccia gelata oh ti soffocavano con un te questo per cosa? cioè che motivo aveva? queste torture basta con l'acqua in faccia ti legavano al letto mi legarono al letto aspetta ma morì accanto a me e soffocata ma c'è stessa era legata perché non voleva smettere di mastrofarsi ricordo i suoi rantoli io urlavo ma nessuno veniva però scusa ha parlato di renei e poi di se stessa quindi lei forse cioè io sono amara a questo punto non sono renei fu allora che vidi quella bambola ma non era charlotte beh non mi pare neanche una bambola se per questo lei non è charlotte what e questa è la madre che la picchiava chi cavolo è non mi dire che l'uomo che aveva abusato di lei in partenza quello nella macchina il passato che era come il presente sì quella bambola quell'uomo la vergogna renei era sempre più lontana dalla realtà poverino come potrò mai sapere cosa accadde realmente come potrò mai ritrovare amara se non riesco neppure a trovare me stessa non sono amara allora come è chiuso ma c'è un foglio prima non c'era montefoscoli 12 novembre 1939 cara figlia mia apprendo con grande dolore quello che è successo il tuo trasferimento e le tue pene sono per me motivo di grande hanno detto alla mamma che l'hanno trasferita qua forse ci vuole pazienza ma vedrai che andrà meglio ti cureranno e guarirai io prego tanto ogni giorno scrivimi spesso raccontami tutto e dimmi se hai bisogno di qualche cosa farò il possibile cerca di essere forte sì la mamma alla fine le voleva anche bene questa è l'ultima lettera che scrisse l'ultima? una volta entrata in questo reparto arrivò la solitudine ah perché qua sei isolata dopo quella visita non arrivarono più le lettere della mamma eh immagino perché quell'uomo perché non venne lei ho sbagliato io forse non sembrava che mi volessi abbandonare cosa ho sbagliato vorrei poterle rispondere di nuovo ora per cambiare le cose what? ok rispondo alla mamma posso scegliere tra ti prego fammi uscire da questo posto mi spaventa così tanto ma mi pare abbastanza inutile e non glielo avrebbero consegnato mi hanno portato via tutto tutto mi fanno male tanto male sono così sola nessuno sa più nulla di me come se non esistessi allora se noi soffriamo la solitudine forse la mamma ci viene a trovare io proprio vorrei dire questo no non ho detto quello io ho detto quella sotto ma mi ha messo un'altra un'altra risposta vabbè anche la mia amica aiutami mi fai qualcosa ho una paura che non riesco più a capire tutto confuso avevi ragione lo so ho sbagliato lo capisco mi vergogno tanto sapessi ma perché non ho sbagliato niente non riesco più a vivere così senza un motivo non riesco più neppure a piangere io la butterei sul tragico magari così capisce che sto male ma non ho detto questo momento a prescindere da quello che dico lei risponde quello che ha risposto in passato probabilmente ma ora mi saprò comportare bene sicuro ora andrà tutto bene lavorerò sarò bravissima che falsa loro mi odiano lui mi odia mi vuole uccidere ma nessuno lo capisce nessuno mi crede non so più cosa mi succede a volte non so più dove sono vorrei solo poter morire la sera spero sempre di non dovermi più svegliare io provo a rispondere questa così mi avrebbe ascoltata forse mi risponderà sì però non è quello che ho voluto dire io dove la devo consegnare la lettera le lettere venivano consegnate all'archivio loro si occupavano di spedirle devo trovare l'archivio quindi proviamo a buttare un occhio anche alle altre stanze così ho acceso la radio è un po' fastidiosa in realtà sono pentita di averla accesa no ragazzi io vado a spegnere la radio perché mi sta dando alquanto sui nervi what c'era una incatenata alla finestra oh mamma che brutta cosa di qua anche oddio avevano i buchi tipo gabinetto perché erano incatenate oh qua c'è un un parte del diario se riesco a prenderla l'ho presa ok un altro flashback abbastanza inutile strano oh un'altra parte del diario sei posso cliccare anche il teschio uno cinque sei forse no quattro cinque sei forse mi serve questo codice non so per cosa ma io continuo a dover trovare l'archivio comunque non vorrei essere per critica ma ho trovato un asse da stiro qua stiravano è un gran bel ricordo di qua cos'è quando entravi in manicomio perdevi il diritto di possedere qualcosa tutto quello con cui arrivavi veniva impacchettato e messo qui ah ok compresi i vestiti che avevi addosso nel caso un giorno fossi uscita troppi però non uscivano mai eh sì lo so perché posso aprire sti cosi credo sia abbastanza inutile deve esserci una cartella con il mio nome nello schedario dell'archivio qui da qualche parte ah ok R in teoria è qua e R in teoria dovrebbe essere questa ok ti prego fammi uscire da questo posto ah questa è la lettera originaria avevi ragione lo so ho sbagliato lo capisco lei aveva fatto un mea colpa ma ora mi saprò comportare bene è sicuro ora andrà tutto bene e lavorerò sarò bravissima tua figlia René oh poverina questa lettera era la lettera di René ah non è mai stata spedita allora non è mai stata spedita perché tanto non volevano rilasciarla perché una cosa del genere funzionava un po' così nei manicomi in realtà non avevi possibilità di uscire ho ricevuto una vostra lettera madre mi dite di avere pazienza e forza mentre io ho solo paura e dolore e voi non mi scrivete più vorrei che questo foglio potesse essere la mia anima e raccontare quello che mi succede poverina i bambini mi vogliono uccidere chi tutti fanno finta di niente e mi dicono cosa devo fare io non riesco a capire nemmeno io in questo momento lei mi aiuta ma cosa le hanno fatto parla di Amara anche questa non è stata inviata ah una risposta non consegnata della madre credo cara figlia mia non ho più ricevuto tua nuove nemmeno un rigo da mesi non sono purtroppo nelle condizioni di venirti a trovare mancano i denari per il viaggio ah ok non aveva i soldi ti ricordi del signor Onofrio sarà prossimamente a Volterra per affari gli ho chiesto se gentilmente potesse chiedere al signor direttore di avere le tue notizie spero quando tornerà di ascoltare belle novità che ti riguardano ma tu scrivimi lo so che sono stata dura con te mi devi scusare io non pensavo oh si è pentita la madre ti ho mandato col signor Onofrio una nuova bambola ah la nuova bambola so che ci tenevi così tanto oh è stato un gesto carino non è bella come la tua Charlotte ma spero che possa darti ugualmente conforto che brava coraggio figliola vedrai che tutto passerà la mamma anche questa non è consegnata di nuovo scritto la madre 12 ottobre 1940 cara figlia ho scritto due volte senza avere nessuna risposta aspetto ogni giorno una tua lettera con grande ansia beh giustamente si stava preoccupando il signor Onofrio è tornato ti ha portato la bambola ti è piaciuta non credo mi ha riferito che non è riuscito a parlare con il signor direttore ma che ti ha potuto vedere prego per te ogni giorno anche Don Gino ha pregato per te durante la messa domenica pensa che bello mi ha cambiato la vita eh ti riporto a casa ho già scritto al signor direttore e gli ho detto che mi prenderò cura la madre quindi l'ha riportata a casa mi trovo malata e non posso lavorare ma parirò presto vedrai no ok forse non glielo hanno fatta portare via ti verrò a prendere visto che non poteva mantenerla ma resisti ti prego la mamma verrà a prendere René vero beh se glielo lasciano fare ecco perché era venuto quell'uomo la bambola René avrebbe potuto giocarci aspettando che lei venisse ma René non l'ha mai avuta con sé non gli hanno mai dato la bambola è una bugia della mamma no non è una bugia della mamma no no la mamma è buona quell'uomo l'ha portata lo abbiamo appena ricordato non è vero effettivamente si sbagliava la bambola c'è è sicuro forse è stata sequestrata come tutto può essere magari l'hanno lasciata qua qualche parte doveva cercare la bambola quindi e come facciamo a trovarla adesso va a capire quale è il pacco che ci riguarda ma che ne so ah sto salendo questo questo è il mio pacco ora possiamo aprire il fagotto su quel tavolo davanti alla finestra perché per forza sul tavolo davanti alla finestra la bambola no scarpe si ok le scarpe le ho viste io volevo vedere la bambola no la bambola la mamma era buona io ero cattiva no non eri cattiva non ti hanno dato la bambola non è colpa tua per charlotte che brutta comunque io l'ho abbandonata l'abbiamo abbandonata ma no è in radiologia l'ho portata io faccio una foto orribile un coso con padre Pio credo ti guidi il tuo cammino e ti tenga lontana dal peccato la mamma vabbè però a modo suo ci voleva bene dai una foto di me la mamma e basta credo ciao 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 ciao